In questa seconda parte noi prenderemo in considerazione un altro testo. Guardate che nel Nuovo Testamento testi sui comandamenti ce ne sono pochissimi. Questi due che noi facciamo questa mattina, quello che abbiamo fatto prima e quello che faremo adesso, sono fondamentalmente i due testi più importanti. Siamo alla linea 35 del foglio numero 2. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Siamo pronti? Ci andiamo tutti? Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi... E qui la traduzione, a mio avviso, è sbagliata, perché in greco si dice poi tornando stai offrendo il tuo dono. Cioè l'atto di culto lo hai fatto riconciliandoti con tuo fratello. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. Perché l'avversario non ti consegna il giudice, il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Questo versetto 25 è difficile da capire, se non tenete presente, che in Oriente esisteva un'istituzione giuridica chiamata RIB, per cui se io sbagliavo, colui a cui io avevo fatto del male mi convocava, mi accusava, mi convocava davanti agli anziani del villaggio, mi accusava, se io riconoscevo che l'accusa era giusta, lui era obbligato a perdonarmi. E allora Gesù dice, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, cioè di, se sei colpevole lo dici, perché non siamo nessuno di noi uomini impeccabili. Perché altrimenti, se tu non ti riconosci colpevole, che cosa succede? Succede che il tuo avversario ti può denunciare davanti al giudice, e quando si ricorreva al giudice, ieri come oggi, un condannato ne esce fuori, o un soccombente ne esce fuori. In verità, io ti dico, non uscirai di là, dalla prigione, finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo del danno che hai fatto, sottinteso. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. E allora si può guardare nessuno? No, no, guardate, guardate, per l'amor del cielo, perché il problema, se voi notate, è ben chiaro per desiderarla. Cioè, se tu fissi la tua attenzione su una donna, tu donna su un uomo, adesso bisogna dire tu uomo su un altro uomo, tu donna su un'altra donna, il problema non è quello di avere piacere e di vedere una persona bella, ma è fare qualche cosa per averla. Chiunque guarda una donna, obiettivo per desiderarla. Se tu guardi una donna, un uomo, e tu ti dici no, io non desidero, semplicemente mi compiaccio e basta, vai tranquillo. Ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Quanti orbi! Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. Italiano genna, ma ebraico genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e dopo con che cosa batti il computer e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie è eccetto. Quindi un'eccezione c'è in Santa Maria. Eccetto il caso di unione illegittima, ma sta parlando del matrimonio. Se l'unione è illegittima è chiaro che ci si può separare. E quindi questa traduzione ha tanti punti di domanda. La espone l'adulterio. Chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurirai il falso, ma adempirai verso il Signore il tuo giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei Suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco, nero un solo capello. Non conosceva il potere delle parrucchiere di oggi. Sia invece il vostro parlare, sì, sì, no, no. Il più viene dal maligno. Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgeli anche l'altra. Non farlo. Non l'ha fatto neanche lui. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. Non farlo. Perché siamo davanti al paradosso. Paradosso serve a capire l'idea, non a metterlo in pratica. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due, dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo o dirai il tuo nemico? Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli? Che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Bene. Questo è l'altro brano dove esce fuori il problema dei comandamenti. Linea 36, linea 43 e linea 48. Adesso, prima di inoltrarci dentro nella comprensione di questo testo, dobbiamo fare alcune piccole considerazioni. andate al foglio numero 3. La prima cosa che noi dobbiamo mettere in chiaro è qual è la tesi di Gesù. In questo testo c'è una tesi. Tutto il resto è esemplificazione per capire quella tesi. E la tesi è ciò che voi trovate alla linea 67. Questa è la tesi. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E voi dite che accidenti vuol dire? Proviamo. Gli esegeti di allora e gli ebrei impegnati nella fede di allora, scrivi i farisei, avevano questa idea. Tu ti guadagni la salvezza osservando la legge. E quindi alla fine della tua vita tu vai dal Padre Eterno con il libretto di risparmio e dici ho fatto tot punti. questo significa che io mi merito la salvezza. Gesù ci ha rimesso anche la pelle per questo, dice le cose non stanno così. nessuno riesce a guadagnarsi la salvezza. La salvezza è un dono che ti viene fatto. Naturalmente è un dono che viene fatto a chi la cerca, a chi fa qualcosa per averla. Ma chiunque faccia qualcosa per averla non riuscirà mai ad averla con le sue forze. è solo Dio che li viene incontro. E quindi il vostro essere giusti davanti a Dio non può essere creato solo con le vostre forze. Osservando una legge. Perché dietro a quella legge non c'è semplicemente il valore di superficie. Dietro a quella legge c'è molto di più. Non rubare uno dice io non devo sottrarre niente che appartenga all'altro. Giusto. Ma un professore che non insegna sta rubando la paga, sta rubando la cultura ai ragazzi e la libertà ai ragazzi. Però nessuno pensa che questo sia un furto. l'operaio o l'impiegato che non fanno il loro lavoro non fanno un furto solo al datore di lavoro che può essere lo Stato o l'imprenditore. Stanno rubando la società? Ma nessuno pensa a questo perché rubare significa do renato al cellulare glielo prendo questo si chiama rubare. no, non è solo questo. Quando tu approfitti della fragilità psicologica di una persona per imbottirla di idee che portino la persona a pensare come te senza rispettare la sua libertà stai rubando la libertà delle persone. Che è la cosa più mostruosa di questo mondo? Certi guru fanno questo? Certe sette fanno questo? Non dimentichiamocelo mai se vuoi vieni e seguimi. cosa vuoi che io ti faccia? Non dimentichiamocelo mai questo è ciò che il Cristo dice. E quindi Gesù cosa sta dicendo? Guardate che gli scrive i farisei prendono alla lettera la legge non sono capace di andare oltre e capire quali sono i grandi valori che si trovano sotto queste norme per cui in passato vi fu detto così ma io vi dico un'altra cosa non per stravolgere la legge ma per farvi capire qual è la radice e quindi se il vostro essere giusti corre sulla linea dei scrivi e dei farisei non sarete mai giusti il vostro essere giusti deve avere una marcia in più rispetto a quella mentalità perché quella mentalità è la mentalità fregaiola del giurista che trova il cavillo per non rispettare la legge e noi italiani siamo artisti dunque questa è la tesi il resto che abbiamo letto è una lettura molto lunga non è altro che la esemplificazione ora cerchiamo di andare con ordine per capire il nostro obiettivo è capire se noi leggiamo noi ci accorgiamo che ci sono solo sei antitesi di queste sei tre sono negative perché si dice non ucciderai non commetterai adulterio non devi dare il ripudio fondamentalmente e le altre sono positive ora il problema qual è? andate alla linea 75 e alla linea 78 cosa trovate scritto avete inteso che fu detto agli antichi questa dicitura non la trovate né alla linea 76 né 77 né 79 né 80 significa che queste antitesi sono suddivisibili in due blocchi e se notate questi due blocchi possono essere definiti così nel primo blocco nelle prime tre antitesi voi trovate i comandamenti nelle altre tre antitesi trovate altre norme che non appartengono al decalogo perché Gesù fa un discorso del genere perché all'epoca di Gesù non c'era distinzione tra il decalogo che erano i valori fondamentali e gli altri 660 erotti comandamenti che trovate nel pentateuco tutto era uguale Gesù dice no c'è una differenza tra quello che è il decalogo la legge fondamentale della Torah e quelli che sono gli altri questa è la prima cosa da dirsi c'è dunque una distinzione e Gesù la fa poi c'è una seconda cosa da tenere presente in queste esemplificazioni ci sono dei paradossi e dei non paradossi proviamo a vedere come poter distinguere quando c'è un paradosso nel testo e quando invece non c'è prendete il foglio numero due andate alla linea 37 ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio questa è una specie di principio fate ancora un salto alla linea 43 versetto 28 chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore questo è un altro principio andate alla linea 55 versetto 39 ma io vi dico di non opporvi al malvagio questo è un altro principio ancora mentre invece se voi andate per esempio al la linea 48 versetto 32 vedete che non c'è un principio c'è tutta una spiegazione senza esempi chiunque ripudia la propria moglie eccetto in caso di unione illegittima espone adulterio chiunque sposa una ripudiata commette adulterio l'antitesi che qui viene posta viene posta nella sua totalità e non ci sono esempi mentre invece voi trovate delle antitesi dove c'è un principio che ovviamente completa ciò che è stato detto agli antichi e poi c'è una serie di esempi in questo caso voi avete i paradossi e cioè cose che non dovete mai fare non dovete cavarvi un occhio non dovete tagliarvi una mano non dovete porgere l'altra guancia dunque tornando al foglio numero tre voi avete dalla linea 82 alla linea 88 i tre paradossi che vanno letti per capire il concetto non per eseguirli il paradosso non si esegue mai mentre invece dalla linea 89 alla linea 92 avete i non paradossi 1 2 3 2 ahí la